Oggi tratteremo ancora della ricerca binaria, questa volta vedremo la sua implementazione in Python. Se è tutto chiaro il funzionamento, dovrebbe essere semplice tradurre l'algoritmo che abbiamo definito l'altra volta in una sequenza di istruzioni con Python. Iniziamo subito. Proviamo a scrivere passo dopo passo e trasformare l'algoritmo che abbiamo visto l'altra volta in un codice in Python. Iniziamo a definire una lista di numeri, mettiamo dentro a caso, facciamo 2, 5, quindi numeri vi ricordo tutti sequenziali, in sequenza, devono essere già ordinati, non per forza devono essere consecutivi, cioè non per forza 1, 2, 3, 4, possono anche esserci dei buchi, quindi la lista eccola qua, l'avevo già preparata prima. Ora chiedo il numero all'utente, quindi dico input, numero da cercare, punto di domanda, facciamo far print di ans per vedere se ce l'ha dato giusto, salvo, eseguo il file, chiede il numero, facciamo 23, vedete che esce qua sotto 23, quello che ho ben digitato. Adesso ci devo andare a definire i due indici che chiamiamo inf e sup. Inf è l'indice che punta all'inizio della lista, in questo caso avendo la lista intera, la prima volta mettiamo inf uguale a 0 e sup lo mettiamo uguale alla lunghezza della lista meno 1, quindi se la lista ha 10 elementi è in 9 perché parte da 0, quindi faremo len di lista, questo mi dà il numero di elementi presenti nella lista e devo fare meno 1 per avere l'indice. Adesso stiamo usando un approccio iterativo, nel senso che vado avanti un po' per volta e inizieremo prima a scrivere la stesura di quello che accade durante una semplice esecuzione e poi cercheremo di mettergli un while per farla ripetere più volte, questo per trovare prima il meccanismo base e poi estenderlo, aggiungendo poi tutte le varie complicazioni del caso, come vedrete non è poi così immediato. Bene, definiti questi due indici e qua possiamo vedere se funziona facendo print, mettiamo per esempio inf due punti spazio virgola inf virgola e poi qua mettiamo sup due punti spazio virgola sup così vediamo effettivamente cosa viene calcolato, salvo, eseguo, vuole il numero da cercare, mettiamo 23, mi calcola 0 e 14 perché abbiamo 15 elementi nella lista. Adesso faremo un po' di prove, per evitare ogni volta che debba inserire il numero lo possiamo mettere per ora cablato e poi lo attiveremo in modo interattivo, quindi facciamo ans uguale, facciamo 23 fisso. Come abbiamo visto prima, adesso ci serve calcolare l'indice di mezzo, quindi la posizione in cui tagliare la lista. L'ho chiamato mid, lo calcoliamo facendo inf più sup il tutto diviso 2. Questo può essere, adesso ve lo faccio stampare qua, facciamo sup virgola, qui faccio mid due punti virgola mid. Ok, quindi con mid definisco l'indice centrale, devo andare a vedere che cosa ho lì per capire da che parte stare. Cosa ho lì vuol dire che devo andare a estrarre quell'elemento, quindi l'indice della posizione 0 è il 2, l'indice della posizione sup è il 99, l'indice della posizione mid, vediamo cos'è, lo chiamiamo middle e questo è uguale a lista, le quadre di mid, in questo modo estraggo l'elemento centrale, faccio print, vediamo effettivamente cosa tira fuori, faccio middle, due punti, virgola, middle, eseguiamo ancora per vedere e tira fuori il numero 17, quindi è la posizione 7, quindi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e il 17, quindi spacca più o meno in due le liste. Adesso questo 17 devo confrontarlo col numero 23, quindi 17 è superiore o inferiore al 23? 17 è inferiore, quindi vuol dire che il numero 23 che cerco sarà per forza nella parte destra, e allora devo andare a selezionare questa parte qua. Allora nel caso fossimo fortunati potrebbe capitarmi che il middle è uguale a l'ans, quindi in questo caso qui avrei finito, quindi scrivo print, trovato e avremmo finito. Altrimenti devo prevedere i vari casi, allora nel caso invece il mio numero, quindi middle sia minore di ans, oppure if middle maggiore di ans, cioè il numero che cerco, devo andare a ricalcolare gli indici, quindi non vado a tagliare la lista ma semplicemente sposto i due indici. Quando middle è minore di ans, cioè il caso che siamo noi, quindi avendo il 23, vado a spostare l'indice inferiore, quindi faccio inf è uguale, faccio mid più 1, e lo tengo spostato di una posizione a destra rispetto al numero che abbiamo trovato. Nell'altro caso è il contrario, quindi vado a spostare l'indice sup e faccio uguale mid, ovviamente meno 1. Adesso posso ricopiare questa print, così vediamo dopo un'esecuzione cosa accade. salvo, eseguo, vedete che abbiamo spostato il limite inferiore, quindi nel primo giro considero tutta la lista, poi visto che sto cercando il numero 23, trovo che l'elemento centrale è il 17, il 23 è posto sulla destra, allora vado a prendere la lista di destra, che va dall'8 al 14. Dovemo ripetere questa operazione più volte. Come facciamo? Mettiamo un while. Per far funzionare il while, capiamo dove inserire il while, intanto possiamo togliere questo print qua sotto, il while lo metterò qui, farò while, not trovato, finché non ho trovato il mio elemento ripeto il tutto, devo andare a spostare perché altrimenti il mio python si arrabbia. Ho indentato il tutto, mi manca solo di definire questo trovato, trovato è un boolean, un flag, e lo metto uguale a false. Per terminare, ovviamente qui quando trovo l'elemento, mi del uguale ans, print trovato, ma faccio anche trovato uguale true, in modo che il ciclo termini. Proviamo a salvarlo, 23 non esiste, quindi prendiamo un numero che c'è nella lista, altrimenti andiamo incontro a un problema. Quindi facciamo 20, faccio salva, F5, vedete che procede fino a che trova l'elemento in quattro passi. Avete visto quanto è potente la ricerca binaria, soprattutto il fatto che riesce con pochi passi a sfoltire insiemi anche molto numerosi. Tenetela presente quando scrivete del codice perché potrebbe capitare di doverla utilizzare. Spesso molti linguaggi prevedono delle librerie o delle estensioni con all'interno già questo tipo di algoritmi, quindi la ricerca binaria è uno dei tanti che ci sono, esistono molti altri, l'importante è sapere uno che esiste e due come funziona, in modo che se anche dovete usare un algoritmo già pronto sapete però come si comporta e quindi potete scegliere il migliore per ottenere il risultato voluto. Se fossero dubbi o domande lasciatemi un commento, vi risponderò appena possibile. Vi ringrazio per la vostra pazienza e ci vediamo domani. Ciao!